La più bella del reame, Cecilia, Cecilia, buongiorno, buongiorno, Cecilia D'Aguanno. Io la descrivo davvero come la più bella del reame del vending. Buongiorno Cecilia. Buongiorno a voi. Siamo sulla Vending Cruise, siamo il terzo giorno, intanto dammi una tua opinione rispetto a questo nuovo tipo di incontrarsi, di realizzare degli incontri ludici ma professionali al tempo stesso. Bene, bene, io sono molto contenta. Penso sia stata un'idea innovativa, geniale, più proficua se vuoi perché comunque un contesto destrutturato, divertente, ludico, consente, peraltro siamo tutti qui quindi non scappa nessuno, consente davvero di fare delle chiacchierate interessanti. Io dico chiacchierate proprio perché il contesto è quello della chiacchierata, però sono incontri di lavoro. Noi abbiamo incontrato moltissime persone, abbiamo incontrato anche con molta leggerezza, in modo strutturato, poco ingessato. Assolutamente, quindi io penso sia stata veramente un'idea eccellente. Penso davvero che sarà l'alternativa a Venditalia, io mi auguro quantomeno che sarà l'alternativa a Venditalia, un anno sì, un anno no, quindi incontrarsi in queste cose. Se poi si riesce a coinvolgere le organizzazioni europee sarebbe veramente un'evoluzione eccellente. Noi proporremo anche a leva di andare a fondere questa cruciera per vedere anche i colleghi europei e extraeuropei. Cecilia, abbiamo appena assistito alla presentazione dei nuovi dati relativi al settore per il 2010. Pare ci sia uno spiraglio. Il buio sta scomparendo, c'è un raggio di luce che sta illuminando il nostro settore. Mi dai un'opinione rispetto al futuro del vending nei prossimi anni? Io penso, c'eravamo posti questo interrogativo già l'anno scorso a Venditalia. Credo che la tendenza stia effettivamente confermando la nostra ipotesi di un anno fa, cioè c'è effettivamente una ricrescita. Noi non lo vediamo nella nostra attività, quindi nelle installazioni software stiamo puntando molto anche a quel margine immenso del mercato che sono i piccoli gestori e i microgestori. Hanno fatto una gran fatica, molti sono, ahimè, scomparsi, molti altri sono venuti fuori. Io penso che si stia salendo la china, assolutamente. Quindi bisogna andare avanti in questa direzione, come sta sottolineando Confida, come stanno sottolineando tutti i relatori che hanno parlato. Qualificare il settore significa agire anche su prezzo, insieme, creare veramente questa catena del valore e far percepire al mercato che questo settore ha sostanza. Ha sostanza, ha grandi professionalità. E la professionalità, la sostanza, va pagata in maniera corretta. Naturalmente. Quindi io penso che se tutti si muovono da questa parte, noi ci siamo, noi seguiamo. Controllo dei numeri, tu sai che per noi è il nostro lavoro. E' certo. E quindi io penso che quanto più margine c'è nel settore, quanto più l'evoluzione sia positiva per tutti. Questa è una cosa scontata, però è... Sì, perché in pratica poi le compagnie di gestione hanno un margine sempre maggiore da poter dedicare agli investimenti, alle crescite professionali, allo sviluppo, alla formazione e quindi in sostanza al consumatore finale, nell'ultima battuta. E a proposito di numeri, nella giornata odierna voi andrete a presentare, nell'ambito del vostro road show, che ha già toccato più città in Italia, il nuovo Vega Light. Un piccolo accenno e poi realizzeremo un servizio dedicato proprio a voi nel pomeriggio. Sì, oggi pomeriggio presentiamo, fra le altre cose, quindi questa soluzione Vega Light, che è il nostro gestionale, rivisitato sia in termini di pacchetto che in termini di servizio, per le gestioni piccole e piccolissime dimensioni. Quindi l'idea è quella di andare incontro, ripeto, a quella fetta di mercato di cui parlavo poc'anzi, che ancora adesso non riusciva ad affrontare un investimento per informatizzarsi in maniera adeguata. Quindi questo per noi è una grossa scommessa del prossimo anno e dei prossimi anni. Ce ne parlerai dunque oggi pomeriggio. Per il momento è tutto, ringraziamo Cecilia. Grazie, grazie a voi. E continuiamo a fare interviste in lungo e in largo per la nave Costa Deliziosa. Per il momento è tutto, Fabio Russo per Venintv.it